interpump group analisi mensile luglio 2020 allora azienda italiana specializzata nella produzione di pompe ad altissima pressione e leader mondiale praticamente nel settore oleodinamico quindi vediamo subito il grafico mensile come al solito grafico che ho fatto partire dal 2006 si può andare anche un pochettino più indietro 2004 e insomma vediamo chiaramente subito saltano subito agli occhi due fasce di prezzo importanti una che ha dato anche origine a una possibile una bellissima entrata forse con uno stop piccolissimo ma comunque che avrebbe dato un target assolutamente fantastico ora la vediamo andiamo intanto a identificare le fasce di prezzo che ci interessano quindi la prima fascia di prezzo senza andare chiaramente troppo distanti anche se qui appunto già comunque siamo a 8 euro e quando i massimi assoluti sono stati a 33 il prezzo adesso quota 27 quindi insomma 8 euro siamo già in un'area molto distante quindi vedete come vedete come questo swing iniziale abbia poi aiutato il prezzo a fermarsi su questa discesa tra l'altro guardate proprio sull'area di massimi di questo swing si ferma la candela di gennaio 2016 proprio si ferma assolutamente su quel massimo e la candela di febbraio 2016 va a rompere questi massimi questi scusate questi minimi sì questi minimi della candela del minimo precedente del mese precedente e però vedete come li riassorbe qui ci poteva stare un'entrata che avrebbe dato poi origine a un lunghissimo long un bellissimo long lo stop probabilmente non sarebbe stato molto piccolo ma ora poi lo vediamo quindi prezzo che poi decolla fino al 2017 ad arrivare in area 27 28 30 e poi con una volatilità molto alta crea candele mese dopo l'altro molto alternate con un andamento molto alternato vedete come alla candela di aprile 2019 che va appunto a segnare i massimi che segniamo qua vedete poi come si alterna una candela che violentemente apre sui massimi e chiude sui minimi totalmente senza lasciare praticamente shadow né da una parte né dall'altra candela con un grossissimo body e quindi fondamentalmente candela che probabilmente anzi quasi sicuramente sono tutte le chiusure di chi era long da livelli molto più bassi quindi queste sono prese di profitto di grossi operatori ma di anche di trader più piccoli poi prezzo che continua diciamo ad alternare mesi verdi e mesi rossi quindi questo lo potete vedere e poi la famosa candela del del marzo 2020 che arriva fino in area 19 50 che cosa abbiamo lì ma abbiamo dei massimi precedenti comprati quindi su questa ma potevano chiaramente poteva questo non è tantissimo indicativo 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 che si fermi proprio su uno dei massimi comprati cioè la candela di gennaio 2017 comincia a comprare i massimi di gennaio 2017 la candela di febbraio 2017 comincia a comprare i massimi di gennaio e così via e il prezzo si ferma proprio su quella soglia di massimi di prezzo quindi che cosa dire niente la candela di luglio di quest'anno sta dimostrando poca volatilità fondamentalmente una candela inside al mese precedente quindi direi che per quello che riguarda un'analisi di mensile su questo titolo si potrebbe aspettare assolutamente la rottura di questo livello di marzo per un riassorbimento eventuale quindi un nuovo una nuova entrata long direi che fondamentalmente ecco vediamo un secondo l'operazione che poteva nascere su questo livello vedete in riassorbimento di questo minimo entriamo con lo stop chiaramente sul minimo della candela che ha generato l'entry un primo target vedete che comunque abbiamo un 6,90 di stop che non è pochissimo ma non è neanche tantissimo avremo avuto comunque fermandoci su questi massimi o addirittura su questo massimo di swing comunque un rendimento del 33 quindi ci sono sempre gli elementi grafici che ci definiscono i target e gli stop ok quindi vedete come poteva essere lo stop su quest'area di swing su quest'altra su quest'altra infatti vedete che proprio su queste aree il prezzo poi trova un po di difficoltà a salire vedete vedete che quando arriva qui poi il prezzo questo swing viene venduto e anche qui questi swing questi massimi vengono di nuovo venduti per qualche mese poi viene il prezzo viene ricomprato il prezzo sfonda e va via quindi fermiamoci come target a questo a questi due target che sarebbero già stati un risultato enorme niente vediamo è un titolo che si sta sviluppando la dinamica in maniera molto strana quindi probabilmente anche un titolo poco liquido quindi vediamo come questi sono i livelli che io attenzionerei sicuramente per eventuali prossime operazioni